Gianfranco Peroncini, giornalista e saggista, autore recentemente di due libri su Enrico Mattei, dal titolo il primo Veni vidi Eni, Enrico Mattei e il sovranismo energetico, la lunga marcia dall'Agip all'Eni, ed il secondo Veni vidi Eni, Enrico Mattei e il sovranismo energetico, l'attentato di Bascapè, sette mandanti per sette sorelle, un delitto abissale. Al fine diciamo di una maggiore comprensione per quanto avvenuto proviamo nel modo più sintetico possibile a disegnare la situazione economica e gli equilibri geopolitici del periodo in cui morì Enrico Mattei. Quale situazione si presenta davanti a noi? Ricordiamo che eravamo uno stato sconfitto dopo la seconda guerra mondiale. Per di tutto buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Per inquadrare il contesto della parabola umana imprenditoriale ed esistenziale di Enrico Mattei dobbiamo cominciare appunto a tracciare il quadro dell'Italia di quegli anni che naturalmente deve partire dalla sconfitta militare del 1945, dal trattato di pace cartaginese che ci viene imposto dagli alleati perché si tende anche a dimenticare che quello che noi chiamiamo l'armistizio dell'otto settembre in realtà in tutto e per tutto era una resa senza condizioni. Il problema dell'Italia che è un problema fondamentale che si trascinerà nel corso di tutta la storia repubblicana è che l'Italia si trova al centro di coordinate strategiche estremamente importanti. Di solito si tende a sottolineare privilegiare come prioritario l'asse est-ovest nel senso disegnato dalle tensioni della guerra fredda e del confronto ideologico tra gli avversari omologhi degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica. In realtà a questa sicuramente pregnante, importante e decisiva linea strategica, dobbiamo anche aggiungere l'asse nord-sud in quanto l'Italia è una portaerei immersa più che distesa nel Mediterraneo per cui i suoi piedi, i suoi stivali potremmo dire, toccano il Nord Africa. Il Nord Africa è, come sappiamo, un deposito energetico straordinario ma è anche l'antemurale, la trincea che divide l'Europa dall'Asia e dall'Africa. Nello stesso tempo la testa dell'Italia, col suo arco alpino, comprende una delle regioni produttive più importanti d'Europa e quindi del mondo e si proietta verso il Nord dell'Europa, ovvero sia verso le aree più economicamente avanzate. Queste coordinate strategiche fondamentali Nord-Sud ed Est-Ovest hanno disegnato il destino dell'Italia perché sappiamo che dopo la conferenza di Yalta, dove c'è la spartizione tra influenza occidentale influenza sovietica, l'Italia cade dalla parte dell'influenza occidentale. Nello stesso tempo nel suo territorio si trova il più importante partito comunista dell'Occidente. Questo creerà delle tensioni notevolissime, importantissime, che potremmo sintetizzare nelle elezioni del 18 aprile 1948, quando l'Italia arriva a decidere da un punto di vista democratico l'adesione o il rifiuto a questa incorporazione nel sistema economico, politico, diplomatico, militare, industriale occidentale. La sconfitta del fronte popolare, dei socialcomunisti, del fronte popolare, il Partito Comunista, il Partito Socialista, di Togliatti e di Nenni, consacrano il potere obbligato della democrazia cristiana, potere obbligato in quanto l'Italia diventa un paese che non avrà alternativa politica. Questo sarà uno dei grossi problemi, degli snodi fondamentali di tutta la nostra storia, fino alla caduta del muro di Berlino, quando poi inizieranno altre dinamiche estremamente interessanti. La parabola di Enrico Mattei si colloca esattamente in questi anni, negli anni della ricostruzione, negli anni in cui l'Italia, un paese devastato dai bombardamenti alleati, ricomincia a costruire la sua potenza economica e industriale. E qui iniziamo già a spiegare alcune cose fondamentali, nel senso che l'Italia aveva un potenziale, e ha tuttora un potenziale straordinario, le sue piccole e medie imprese, il sistema delle partecipazioni statali ed economia mista, ereditato dal regime fascista, che auspica e implica un intervento limitato ma decisivo dello Stato nella direzione delle grandi strategie economiche nazionali. Il genio italiano, la sua capacità di passare dal livello agricolo industriale a settore di eccellenza, nel lusso, nell'high tech, nell'industria automobilistica, eccetera, fanno dell'Italia un paese con delle potenzialità straordinarie. Chiudo questo breve ritratto dell'Italia di quegli anni ricordando che negli anni 50 l'Italia con Enrico Mattei e Leni si colloca in prima fila nel campo della ricerca energetica internazionale, ma grazie anche a Felice Polito è tra i primi tre paesi al mondo nel campo del nucleare civile. Con l'industria di Olivetti noi mettiamo in piedi il primo e il suo, soprattutto il suo ingegnere Mario Chu di origini italo-cinesi, noi costruiamo il primo computer da tavola e nello stesso tempo anche a livello sanitario con Domenico Marotta noi costruiamo un sistema, un istituto sanitario nazionale che addirittura attira i premi Nobel della pace. Tutto questo per dire che stranamente sono tutti i destini che si incrociano perché Mattei verrà ucciso in un incidente cosiddetto incidente aereo. Olivetti morirà improvvisamente mentre è in treno che sta viaggiando verso la Svizzera. Mario Chu, il dominus di tutto il settore elettronico dell'Olivetti, morirà in un incidente stradale, mentre Ippolito e Marotta verranno spazzate via da inchieste giudiziarie che poi si rivelarono essere assolutamente distruite di fondamento. E questo sarà il primo segnale della deindustrializzazione dell'Italia che abbiamo sotto gli occhi adesso. Indipendenza economica e indipendenza politica secondo Mattei erano strettamente correlate. Su cosa si fondava questa sua teoria ma soprattutto cosa ha rappresentato Enrico Mattei per l'Italia? Ma chiaramente ce ne stiamo rendendo conto da diversi anni l'indipendenza politica è solo un simbolo, è una bandierina che viene agitata nell'aria se non viene supportata dall'indipendenza economica. Cioè se noi o qualsiasi altro paese ha una indipendenza di fatto che gli permette di avere anche un seggio all'ONU come stato sovrano indipendente, ma poi sono i podestà forestieri, come sono stati definiti dall'ex primo ministro italiano Mario Monti, che alla fine comandano attraverso il pubblicito dei mercati, quello che Hans Dietmeier, ex presidente della Deutsche Bank, spiegava essere il vero discrimine politico delle strategie dei vari stati, allora ci rendiamo conto che l'indipendenza è a sovranità limitata. In quegli anni, ma lo vediamo ancora oggi con la guerra in Ucraina e tutti gli effetti collaterali ricaduta, il punto di vista energetico è uno degli aspetti fondamentali dell'indipendenza economica e quindi politica. Mattei si era prefisso il compito di assicurare all'Italia il massimo possibile di indipendenza economica nell'ambito dell'industria petrolifera coordinata, gestita e controllata dal cartello delle Sette Sorelle, l'Oil Cartel Petrolifero Internazionale, che disegnava l'ossatura delle industrie economicamente e diplomaticamente più importanti della storia dell'umanità, non solo di questo squarcio di secoli. Brevemente possiamo solo ricordare che tutto inizia e esplode diciamo con la prima guerra mondiale, con il passaggio dal carbone alla nafta di tutte le marine militari e di tutte poi le marine anche civili, per cui il petrolio che prima serviva praticamente solamente per illuminazione diventa una risorsa strategica con tutto quello che consegue per il controllo dei paesi produttori delle zone che sono in grado di produrre questa energia fossile fondamentale. Ma per l'Italia cosa ha rappresentato comunque la figura di Enrico Mattei? Mattei è stato l'uomo appunto, come dicevamo prima, che ha con coraggio, determinazione e impegno sfidato questi interessi planetari e a rischio della vita, come ben sappiamo, per costruire all'Italia un polmone, uno spazio, uno spazio vitale in grado di poter aiutare, sostenere, proteggere e sviluppare la ricostruzione italiana. Non dimentichiamo che gli anni del boom economico italiano sono stati in larga parte determinati dal monopolio dell'ENI nella Val Padana, perché tutte le industrie del nord vennero poi alimentate con l'energia del metano, del gas che era stato trovato nella Valle Padana e che Mattei difese a spadatratta contro i legittimi neanche interessi dei privati, che evidentemente però non avevano il respiro e le dinamiche e i progetti di un ente statale che doveva fornire risorse alla ricostruzione industriale del paese e non a impinguare i dividendi degli azionisti delle varie società private che intendevano mettere le mani sulla cassaforte del petrolio, del metano, perché poi il petrolio non venne trovato, del metano della Valle Padana. Qual è il ruolo degli Stati Uniti nelle strategie di Enrico Mattei? Allora, sull'anti-americanismo di Mattei si sono costruiti libri, carriere e leggende. In realtà la situazione è, come sempre, spesso accade molto più sfumata, nel senso che tutti sappiamo che Mattei è stata una figura fondamentale nell'ambito economico e politico industriale italiano. Pochi sanno che all'origine di tutto questo c'è il suo ruolo di comandante partigiano delle formazioni democristiane sul finale della guerra, della seconda guerra mondiale. Da questo punto di vista la scelta atlantista americana, tra virgolette, dettata dalla logica degli Alta, vide in Mattei un Cold Warrior, un sostenitore occidentale atlantista della guerra fredda senza sé e senza ma. Non dimentichiamo che, appunto, come comandante partigiano delle formazioni democristiane, Mattei impose ai suoi seguaci l'abbandono, l'uscita delle formazioni non comuniste dall'Associazione Nazionale Partigiani, l'AMPI, nel senso che considerava questa organizzazione, non a torto per molti versi, come un appendice militare del Partito Comunista Italiano. Infatti fondò la Federazione dei Volontari della Libertà, in antitesi con la dimensione e la proiezione più direttamente comunista dell'AMPI. In questa chiave Mattei, e poi scopriremo anche probabilmente più avanti altre implicazioni, fu estremamente chiaro nelle sue dinamiche. Prima delle decisive elezioni già citate nel 1948, lui spiegò quando si temeva un colpo di Stato comunista, attenzione, sul modello di quello che il 25 febbraio 1948 aveva portato al colpo di Praga, al colpo di Stato comunista che aveva spazzato via la democrazia ciecoslovacca e si era impadronita del potere. Noi andiamo alle elezioni nell'aprile del 48, cioè poche settimane dopo. Quindi le tensioni della guerra fredda che in Italia sono sempre state altissime, più che in ogni altro paese, proprio per quelle dinamiche di cui parlavamo prima, l'interesse fondamentale geostrategico dell'Italia, il fatto che fossi al confine praticamente con il blocco sovietico e avendo all'interno la presenza del partito comunista italiano, che era il più forte partito comunista del mondo occidentale, creavano appunto delle tensioni notevoli. E prima delle elezioni del 48 appunto Mattei organizzò la clamorosa uscita delle formazioni democristiane bianche, monarchiche, da Lampi e in un comizio spiego anche che i comunisti, cioè gli avversari, se si intendevano considerarsi la quinta colonna di un'eventuale invasione sovietica, dovevano sapere che i partigiani bianchi sarebbero stati la quarta colonna della difesa della democrazia occidentale e in questo non avrebbero esitato a schierarsi con le forze armate e con le forze di sicurezza. Lei ha dichiarato che, anzi ha scritto proprio, che non ci fu un vero e proprio processo di decolonizzazione di alcuni stati nordafricani, da parte soprattutto di Francia e Inghilterra, ma una trasformazione del rapporto. Questa trasformazione quanto influenzò la politica di Mattei? Sì, qui dovremmo dedicare una puntata al vero volto della decolonizzazione. Facendo la propria brevissima, in realtà la decolonizzazione è un neocolonialismo 2.0, nel senso che gli interessi economici che avevano generato le condizioni per il fenomeno coloniale prevalentemente europeo si rendono conto che gli investimenti nelle colonie non sono più paganti, nel senso che è molto meglio investire in economie avanzate per ottenere un valore aggiunto maggiore. È qui che nasce la grande stagione della decolonizzazione. In realtà a questi stati, dove per esempio gli agronomi coloniali erano giunti in paesi, per dire africani, hanno visto delle condizioni particolari, non so, per la coltivazione estensiva del cacao, per cui avevano distrutto l'economia di sossistenza dei paesi e fatto una monocultura di cacao. Quando questo paese trova l'indipendenza ha la sua bella bandierina che si è disegnato, ma in realtà essendo la sua economia legata al cacao, il cui prezzo viene fissato alla borsa di Chicago, rimane, e qui torniamo al problema dell'indipendenza economica che non può essere disgiunta da quella politica, alla fine le condizioni non sono poi variate di molto. In realtà ai paesi europei si scrollano il peso di dover costruire comunque strade, ospedali e avere un'amministrazione che mandi avanti il paese e in questo momento decidono, beh, diamogli l'indipendenza, loro sono contenti, ma tanto noi continuiamo a controllarli senza avere più le forze militari di occupazione a controllare. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale tutto questo sistema incomincia a entrare in dinamiche sempre più accelerate. E questa sarà la grande finestra di opportunità che Mattei deciderà di sfruttare, nel senso che l'Italia venne spogliata da tutte le colonie con il trattato appunto di Parigi, per cui noi ci presentavamo nei paesi in via di sviluppo, i paesi cosiddetti del terzo mondo, come paesi non coloniali, mentre invece paesi come Francia e Gran Bretagna avevano delle ipoteche molto più pesanti da scontare. E anche nel loro tentativo di difendere gli interessi che avevano acquisito, soprattutto a cominciare dalla fine della Prima Guerra Mondiale, quando iniziò la grande spartizione attraverso gli accordi segreti Sykes-Picot del Medio Oriente, proprio in chiave di controllo petrolifero ed energetico, si crearono appunto queste condizioni in cui Mattei vide delle finestre di opportunità e si lanciò con tutto l'impegno e l'entusiasmo, la determinazione e l'intelligenza di cui abbiamo parlato prima. Un fatto particolare segnò forse la fine di Enrico Mattei, il cosiddetto schiaffo di Abadana. Cosa avvenne di preciso? Sì, sullo schiaffo di Abadana si è fatta molta leggenda da una parte e dall'altra, lo stesso Mattei lo sfruttò molto. È un discorso che va ridimensionato, soprattutto inquadrandolo nella logica esatta geopolitica di quel periodo. Facciamo bene attenzione, stiamo parlando della Persia, della Persia dove gli interessi petrolifici britannici si erano appuntati in maniera molto importante, nel senso che controllavano tutta l'industria petrolifera, tutti gli enormi, e come sappiamo anche oggi, le enorme riserve energetiche petrolifere e di gas della Persia. Nel 1951 il nuovo premier Mohamed Mossadegh decide la nazionalizzazione dell'industria petrolifera iraniana, praticamente mettendo alle porte la British Petroleum, la BP inglese, e creando notevoli sconquassi. Naturalmente Mossadegh, che in realtà oggi potremmo definire come un sovranista nazionalista, venne subito dipinto come un comunista che intendeva trascinare la Persia in un'economia statalista, socialista di tipo sovietico. Niente di tutto questo era vero, basti pensare che quando venne eletto primo ministro della Persia, la rivista Time dell'editore Lius, tycoon dell'editoria, formidabile, importantissimo, potentissimo e molto legato agli interessi petroliferi statunitensi, gli dedicò addirittura la copertina dei Man of the Year, all'uomo dell'anno. E quando nel febbraio, nel marzo, marzo-febbraio 1951 Mossadegh decise la nazionalizzazione, il presidente Truman assunse un atteggiamento molto cauto dicendo che gli Stati Uniti avrebbero fatto da garanti per trovare una soluzione incruenta che potesse dare vita a un accordo paritetico, insomma un atteggiamento molto cauto, mentre invece gli inglesi e i britannici pretesero da tutti i paesi occidentali un embargo totale su tutte le riserve petrolifere iraniane in modo da affamare il paese. Qual era il gioco che stavano facendo gli Stati Uniti? Gli Stati Uniti erano cercato di entrare diverse volte nel mercato petrolifero persiano, ma erano sempre stati respinti con perdite dagli inglesi che giustamente ci tenevano a gestire in proprio quello strapotere, quel monopolio che detenevano. La nazionalizzazione di Mossadegh fu il cavallo di Troia che permise agli Stati Uniti di schiantare il catenaccio britannico. Evidentemente a frutto di accordi più o meno sottobanco, imprevisamente la posizione degli Stati Uniti nei confronti di Mossadegh cambiò. Sappiamo oggi che la CIA organizzò l'operazione Ajax tramite Kermit Roosevelt, nipote del presidente Theodore Roosevelt, e attraverso una primavera iraniana che precorrerà tutti gli scenari che ben conosciamo, manifestazioni di piazza, incidenti, disordini e alla fine un colpo di Stato liberatore che riporta lo Shah sul trono del pavone. Ma quando lo Shah torna sul trono del pavone gli viene consigliato, evidentemente dalle forze che l'avevano aiutato alla restaurazione del suo potere, di affrontare il problema della nazionalizzazione di Mossadegh che viene chiaramente subito cancellata, di costituire un consorzio, il cosiddetto Consorzio di Abadam. Il Consorzio di Abadam, per farla breve, scardina il monopolio britannico e fa intervenire le sette sorelle, tutte le sette sorelle, quindi anche le società petrolifiche americane. Una piccola quota viene data anche alla compagnia di Stato francese e un 5% venne anche concesso a piccolissime industrie petrolifere statunitensi. Mattei, che aveva rispettato l'embargo, aveva fatto il pesce in barile, non aveva approfittato della situazione al tempo della naturalizzazione di Mossadegh rimase un palmo di naso e non era l'uomo che poteva accettare facilmente un insulto del genere. Perché lui disse, ma come fate intervenire tutte le sette sorelle, interviene anche la compagnia francese, un 5% lo date alle piccole industrie statunitensi e a un paese alleato importante, statisticamente decisivo nel Mediterraneo eccetera, gli sbattete la porta in faccia e questo è il cosiddetto schiaffo di Abadan. Mattei ci pucciò il biscotto diciamo nella situazione raccontando, venne fuori la famosa parabola del gattino in cui lui raccontò che era un incontro televisivo in Italia, lui raccontò questa parabola, appunto la parabola del gattino, per cui lui come ex cacciatore andava a cacciare, si ricordava una volta di essere andato su e giù per le montagne con i suoi amici, poi di essere tornato stanco e la prima cosa che si faceva e che faceva di cacciatori giustamente era dar da mangiare ai cani che avevano corso su e giù per aiutarli nell'impresa e quindi avevano preparato un mastellone dove si stavano sfamando i cani e a questo mastellone che Mattei disse si poteva dar da mangiare a 20 cani, addirittura tanto cibo c'era, si avvicinò anche un gattino scheletrito piccolino molto timido che cercò di avvicinarsi e uno dei cani gli dedo una zampata e gli spaccò la schiena e morì e lui fece questo paragone, noi siamo come quel gattino, andammo anche noi a cercare di prendere la nostra parte, ci diedero questa zampata e alla fine sapete cosa c'è, abbiamo deciso di far da soldi. Nelle sue decisioni Mattei era supportato dallo Stato italiano? Questa è una delle grandi contraddizioni della storia di Mattei, nel senso che Mattei per costruire un colosso mondiale come Leni da nulla, lui prese l'Agip e la fece diventare Leni, un colosso mondiale ancora oggi, sapeva che non poteva adattarsi al ritmo, al passo, alle decisioni, al modo di pensare dei politici, per cui lui faceva molto di testa sua per usare un garbato eufemismo. Per fare in testa sua con il governo lui adottò una politica molto spregiudicata nel senso di finanziare le correnti dei vari partiti per ottenere dei vantaggi non per sé, questo sia ben chiaro, questo lo riconobbero tutti anche i nemici più feroci di lui e della sua opera, non per lui ma sempre in quel progetto di costruzione del sovranismo energetico italiano che reputava fondamentale. In questo modo però con le correnti interne ai partiti non faceva altro che minare la forza del governo. Non avere un governo forte per lui era un vantaggio, nel senso che nessuna autorità governativa poteva mettersi di traverso ai suoi progetti e alle sue azioni, alle suoi disegni che per essere realizzati nel contesto che abbiamo definito dell'oil cartel dell'industria petrolifera delle Sette Sorelle doveva essere gestito in maniera molto rapida, molto decisionale, senza indugi e senza poter fermarsi ad aspettare di nulla osta. In questo modo aveva via libera per non avere ostacoli dal punto di vista governativo. Dall'altro, quando lui si andava a scontrare all'estero con le Sette Sorelle che invece dietro avevano governi efficienti, forti, formidabili, si trovava a spalle scoperte e questo fu un gravissimo problema che Mattei non riuscì mai a risolvere. Mattei e la Gladio, cosa c'è di vero? Ecco, anche questo è un altro aspetto che non si sa, sia per ignoranza totale, sia perché sulla Gladio ci sono dette tante cose eccetera, ma soprattutto perché di Mattei si tende a ignorare il suo portato di combattente della resistenza. Cossiga, in interviste su Corriere della Sera, in libri di memoria eccetera, spiegò le dinamiche di costruzione della rete Stay Behind, che poi, e questo è il nome esatto di quella struttura che poi nel gergo giornalistico venne definita Gladio, di cui magari poi parliamo un attimo per chiarire esattamente di cosa si trattava. Comunque sia, questa struttura Stay Behind venne formata su decisione atlantica, decisione occidentale, in tutti i paesi dell'Occidente. In Italia venne messa in piedi da Moro e Taviani, da un punto di vista legale e politico e diplomatico, e venne affidata come organizzazione a Mattei, come ex comandante appunto dei partigiani bianchi, mentre l'organizzazione più direttamente militare e burocratica passò nelle mani di Cossiga. La rete Stay Behind cos'era brevemente per capirci? Stay Behind vuol dire semplicemente rimanere dietro. Nasceva dall'esperienza maturata dai servizi occidentali, principalmente britannici e americani, della guerra partigiana che in Italia era stata da un punto di vista militare assolutamente ininfluente. Il fascismo venne sconfitto dalla più formidabile coalizione militare della storia dell'umanità e la lotta partigiana servì dal punto di vista militare molto poco, tant'è vero che il comandante alleato in Italia, Alexander, invitò i partigiani ad esistere da qualsiasi azione militare che poteva creare delle rappresaglie sul modello di Via Rasella e invece intensificare tutte le azioni di informazione che potevano ottenere nei confronti dello schieramento nazifascista che si opponeva all'invasione dell'Italia e della Germania nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Il problema qual era? Che questa organizzazione Stay Behind nel secondo conflitto mondiale dovette essere organizzata in corso d'opera con tutti i difetti, i problemi e le difficoltà che ci furono. Quindi già prima della fine della guerra, quando si cominciò a capire che in realtà una volta sconfitto il nazifascismo la nuova guerra sarebbe stata tra mondo occidentale e mondo sovietico, si cominciò a dire che in caso di invasione sovietica una guerra partigiana non la dobbiamo improvvisare nel corso della guerra, perché abbiamo visto tutte le difficoltà che abbiamo incontrato. Organizziamola prima, cioè la struttura Stay Behind era la struttura che doveva rimanere dietro le linee in caso di invasione sovietica e organizzare la raccolta di informazioni, il sabotaggio e tutte le attività di guerriglia che potevano supportare una difesa del territorio. Questa è una struttura che venne organizzata in tutti i paesi europei. In Italia si dice, e qui la cosa è controversa, che poi di questa organizzazione abbia avuto anche delle derive politiche terroristiche, tutte da dimostrare, realtà che se non è dimostrata è quantomeno può essere anche verosimile, data la situazione che abbiamo descritto prima delle tensioni della guerra fredda che c'erano in Italia. Però la struttura originaria era una struttura militare sotto comando Nato per opporsi a un'invasione del blocco sovietico, di cui Mattei fu uno degli organizzatori dal punto di vista organizzativo-amministrativo. Nella sua seconda opera, come sottotitolo, troviamo scritto Sette mandanti per sette sorelle, un delitto abissale. Cosa si nasconde dietro l'attentato di Bascapè e la morte di Mattei? Allora, dopo l'unica certezza che abbiamo, dopo l'inchiesta del giudice Vincenzo Calia, sappiamo per certo che la morte di Mattei è dovuta a un incidente tramite un congegno esplosivo, collocato dietro il cruscotto dell'aereo. E qui, ahimè, ci dobbiamo fermare perché noi non sapremo mai chi, non solo sono stati con certezza giudiziaria, gli esecutori e i mandanti di quell'assassino. Quindi qui dobbiamo solo fare delle ricostruzioni a livello storico e naturalmente sono tutte legittime per certi versi, pur che abbiano una certa coerenza. Qui ognuno, infatti, ha detto la sua e sono stati avanzati mille scenari. Lo scenario italiano, Cefis, la mafia, le sette sorelle, l'OAS, il Mossad e chi più l'ha più ne metta. La mia ricostruzione parte da un assunto diverso che, a quanto mi costa, non è stato fatto da nessun altro. Io sono partito da questo assunto. Un personaggio come Mattei, per il rilievo che aveva assunto ormai, volente o nolente, in quelle dinamiche di quegli anni, non poteva essere eliminato per un colpo di testa da qualcuno, perché le ripercussioni della sua scomparsa avrebbero creato dei maremoti a livello politico, economico e diplomatico. Quindi, a mio avviso, la decisione di eliminarlo deve essere stata presa a un livello altissimo, perché, prima di tutto, si doveva decidere di eliminare una persona la cui scomparsa, come abbiamo detto, avrebbe avuto mille contraccolpi a livello planetario. Poi perché bisognava anche gestire la successione, perché se si fosse trovato un altro Mattei si sarebbero stati putti da capo. Quindi la strategia è altissima, perché viene decisa un'esecuzione pesantissima. Il problema qual è? Che sono state trovate prove, indizi, della compartecipazione possibile, quantomeno, di vari elementi. Allora si tratta tutto di vedere quale poteva essere questo vertice in grado di decidere l'eliminazione indiscutibile, indiscussa e certa di un uomo come Mattei, e di avere nello stesso tempo le capacità per poter gestire il prima, il durante e il dopo, attraverso vari elementi, varie situazioni e varie organizzazioni. Potremmo passare in rassegna a tutti, ma lo troverete nel libro e vi rimando lì perché altrimenti qui andiamo avanti un'ora. A mio avviso bisogna fotografare la situazione di quell'ottobre. In quell'ottobre, il 27 ottobre verrà ucciso Mattei, Mattei era arrivato a una svolta decisiva della sua carriera, nel senso che stavano arrivando a maturazione diversi scenari per lui estremamente interessanti. Nel senso che l'Algeria, che aveva appena acquisito l'indipendenza e che Mattei aveva aiutato nel corso del conflitto con la Francia, attirandosi non poche antipatie, tra virgolette, da parte di Parigi, era in ottimi rapporti con Mattei. Infatti, di lì a poco, Mattei avrebbe dovuto avere un incontro con il Presidente, l'allora Presidente della Repubblica Algerina indipendente, Ahmed Benbella, per firmare un accordo di compartecipazione all'industria petrolifera algerina dell'ENI in cambio di petrolio e soprattutto di gas. Si era parlato anche di un gasdotto che doveva arrivare dall'Algeria fino in Italia, passando in Europa, eccetera. Nello stesso tempo si era creata una situazione estremamente interessante in Iraq, perché in Iraq il generale Qassim aveva fatto un colpo di Stato e aveva nazionalizzato l'industria petrolifera controllata dagli occidentali e aveva già allacciato alcuni rapporti con Mattei. Nello stesso tempo si era avuto un importantissimo cambiamento di scena dal punto di vista diplomatico nei confronti degli Stati Uniti, nel senso che l'amministrazione Kennedy aveva affrontato il problema Mattei in una maniera molto lucida, molto non bonaria, non generosa, ma estremamente lucida. Praticamente si basava sullo stesso discorso che aveva portato in Italia alla nascita del centro-sinistra. Il centro-sinistra in Italia è l'acqua tra molte timore, molte paure, perché si trattava di inglobare nell'area di governo il Partito Socialista, Partito Socialista che fino a qualche anno prima era stato un fedele compagno di strada del Partito Comunista, per cui gli ambienti atlantici non si fidavano molto del Partito Socialista in sé per sé, che comunque dopo l'invasione dell'Ungheria nel 1956 aveva notevolmente preso le distanze dal Partito Comunista e aveva accentuato la sua formazione, la sua deriva, la sua scelta autonomista. Far entrare il Partito Socialista nell'area di governo poteva essere un pericolo, ma nello stesso tempo, se fosse andato in porto, questo progetto che in America stavano studiando per tutta l'Europa, infatti l'Italia anche in questo caso sarebbe stato un po' un pesce pilota delle strategie statunitensi, avrebbe allargato notevolmente lo spazio democratico in Italia isolando più che mai il Partito Comunista. Cioè se la forma del centro-sinistra fosse andata avanti si sarebbe dimostrata geniale. Bisognava sapere se la conversione autonomista del Partito Socialista era reale oppure era un tentativo di mascheramento. Come sappiamo in realtà la dimensione autonomista del Partito Socialista era autentica. sullo stesso piano l'amministrazione Kennedy dice ma perché noi dobbiamo scontrarci testa contro testa contro Mattei? Mattei può essere un cavallo di Troia formidabile per noi nel nostro confronto con l'Unione Sovietica, perché lui è in grado di entrare in tutti i paesi del Terzo Mondo che guardano con simpatia l'Unione Sovietica perché hanno paura del controllo economico che l'Occidente può esercitare, mentre invece si fidano ciecamente di Mattei. Se noi cooptiamo Mattei nel nostro giro, gli diamo lo spazio petrolifero che lui chiede, acquisiamo un alleato esattamente come il Partito Socialista, che ci serve per isolare il Partito Comunista, e mentre Mattei ci serve per isolare l'Unione Sovietica nei paesi del Terzo Mondo. Quindi Mattei era stato invitato dall'amministrazione Kennedy che aveva fatto da broker, aveva esercitato i suoi buoni uffici per limitare le resistenze delle Sette Sorelle e fare un accordo che garantisse a Mattei la possibilità di essere finalmente non più quel petroliere senza petrolio, come lo definiva Montanelli, ma un petroliere che effettivamente aveva del controllo di aree petrolifere in maniera diretta e non in senso semplicemente commerciale. Quindi quando venne effettuato l'attentato, Mattei stava per avere partita vinta dappertutto, aveva in chiusura un contratto importantissimo e fondamentale con l'Algeria, stava per chiudere un contratto con una delle Sette Sorelle e l'amministrazione statunitense lo aveva sdoganato dal ruolo di nemico frontale degli Stati Uniti. E in più c'era anche la storia dell'Iraq che era abbastanza interessante. Chiudiamola subito così, il generale Qassim venne ammazzato pochi mesi dopo Mattei, tanto per risolvere tutti i contenziosi che c'erano in giro poi. Quando Mattei stava per andare quindi in Algeria e negli Stati Uniti a Washington, in visita dal presidente Kennedy, dove avrebbe nel corso della cui visita avrebbe dovuto ricevere addirittura una laurea honoris causa da una delle più prestigiose università Ivy League degli Stati Uniti, venne abbattuto con l'aereo. Chi era in grado di praticamente, per dirla in termini molto chiari, di opporsi a una decisione della Casa Bianca? Perché Kennedy era il broker di questo sdoganamento di Mattei. Quindi qualcuno che era superiore alle decisioni, alle volontà, alle strategie della Casa Bianca. Probabilmente gli stessi ambienti che di lì, un anno dopo, a Dallas, risolsero definitivamente il problema di questo Maverick, di questo cavallo pazzo, che era il primo presidente cattolico degli Stati Uniti, che era rappresentato da Kennedy. E quali sono questi ambienti che potevano andare contro nel caso della Casa Bianca? Qui tocchiamo un argomento molto delicato, che è quello del Deep State, che fino adesso è sempre stato considerato una fisima, una mania, una fobia, una malattia degli ambienti complottisti e quant'altro. In realtà, nell'agosto del 2018, se dico bene, la rivista Limes, che è la più importante rivista geopolitica italiana, dedicò un saggio, un numero, proprio alla questione del Deep State. Perché il Deep State, che esiste in realtà in tutti i paesi che sono potenze planetarie, è semplicemente quel quadro permanente che detta le politiche che devono seguire gli interessi pluridecennali di uno Stato, che quindi non possono essere rallentati, scompaginati, sconvolti da eventuali ubbie o imbizzarementi elettorali. È quel quadro permanente che decide una strategia che non si può attuare dall'oggi col domani, ma che deve avere molti anni davanti e una coerenza logica, diplomatica, militare, economica, ecopolitica e quant'altro assolutamente inossidabile. Questo è il Deep State e non c'è niente di strano, non c'è niente di particolare. Naturalmente in uno Stato importante, decisivo a livello planetario come gli Stati Uniti, il Deep State incrocia ambienti riservati, ambienti militari, ambienti economici, big oil, big tobacco, big pharma e quant'altro, che chiaramente vanno ben al di là e oltre le decisioni di eventuali amministrazioni, vediamo per esempio il caso di Trump, che magari non sono in linea con le strategie di lungo periodo, geostrategiche di lungo periodo. Quindi si può ipotizzare l'idea che la decisione di Kennedy di cambiare completamente lo scenario andava a urtare, con Mattei naturalmente, andava a urtare i disegni di lungo periodo che in campo petrolifero, che sappiamo essere ahimè strategicamente importante, sappiamo quante guerre sono state fatte per il petrolio e verranno fatte ancora e forse stiamo facendo adesso per il petrolio in senso lato, si rendevano conto che le decisioni che stava prendendo l'amministrazione Kennedy non erano in sintonia con la dimensione che era stata assegnata a Mattei nell'ambito petrolifero. Quindi Mattei viene eliminato, un anno dopo verrà eliminato anche Kennedy, ed evidentemente non per Mattei ma perché aveva altri, evidentemente dava fastidio anche in altri campi. A questo punto tutto si potrebbe spiegare, cioè noi sappiamo che l'aereo di Mattei è stato sabotato a Catania, al reporto di Catania, e chiaramente a Catania comanda la mafia, niente in Sicilia può essere fatto nei confronti oltretutto di un personaggio di rilevanza internazionale come Mattei senza che la mafia venga a sapere, venga a conoscere tutti i dettagli per tempo molto bene. Quindi è ipotizzabile tramite i contatti che tra l'altro sappiamo essere già stati organizzati dai servizi segreti americani ai tempi dello sbarco in Sicilia nel 1943, tra mafia e servizi segreti militari specialmente della Marina. E quindi un apporto logistico della mafia ci può essere stato, sicuramente in Italia ci sarà stato un appoggio perché appunto la gestione del dopo Mattei doveva essere gestita. Sappiamo che ci sono stati molti depistaggi, quindi anche nell'ambito dei servizi doveva essere stato organizzato una complicità che potesse mettere in sinergia tutte queste attività. Ecco, secondo me l'omicidio di Mattei è da rintracciare nelle esigenze geopolitiche, geostrategiche differenti, divergenti tra l'amministrazione Kennedy e il Deep State. E Mattei si trovò in mezzo. Italia sarebbe oggi con l'indipendenza energetica tanto una da Enrico Mattei? Questa è una bella domanda, a cui se non si fa la storia, però chiaramente se Mattei fosse riuscito ad avere il contratto che intendeva avere un'attività di compartecipazione con il governo Algerino, se avesse potuto sdoganarsi con gli Stati Uniti, se avesse effettivamente potuto ottenere questo, ovviamente l'Italia avrebbe avuto un altro ruolo, un altro peso. Mi viene da dire che, e qui dovremmo cambiare argomenti, ma con tutta la cosiddetta strategia della tensione, gli anni di piombo, eccetera, forse l'Italia non era assegnato quel copione. E quindi è un po' una domanda così, che forse non poteva essere che altrimenti che comandata. Grazie a tutti!